non è mica andata come pensavo e giuro che ce l'ho messa tutta ce l'ho messa tutta ho avuto un'idea adesso vi racconto un attimo ma non so se interessa però allora fra un pochetto c'è l'Eurovision Song Contest una barracconata clamorosa non so se l'avete mai visto è praticamente il festival bar fatto con gli skate e Sanremo dentro un contenitore tipo X Factor ci vanno tutte le canzoni più brutte d'Europa ogni anno più l'Armenia l'Azerbaijan l'Australia e l'Iran no l'Iran l'Israele non si capisce mica perché li chiamano però ci sarà un motivo allora due anni fa ho fatto una reaction che era venuta anche male ma io mi ero divertito a farlo poi è un video lungo che dura 20 minuti per esportarlo dal computer e per caricarlo su è una roba clamorosa ci vogliono delle mezz'ora capito però l'ho fatto l'ho fatto due volte l'ho rifatto perché YouTube mi dà lo strike mi cancella il video praticamente perché dice che c'è il copyright è vero c'è il copyright allora la prima versione l'ho tolta l'ho rimontata un'altra con solo la mia voce che parlo il video e solo la voce è il master hai caricato anche quella lì e quello doveva essere il vostro video per domani ma non è un video comico come al solito allora le tue scenette e i tuoi sketch no stavolta non l'ho fatto perché saranno anche un po' fatti miei se faccio i video o no il video del lunedì di oggi è questo qua che voglio dire non so se è interessante è il percorso dell'artista lo sapete com'è così è alti e bassi una prova e anche tanto che non facevo più un vlog come questo ho anche spostato la videocamera o no vedete le robe dietro il nero la luce è questa qua c'è la luce vedi per cui Eurovision Sound Contest secondo me era bello non so se riesco a caricarlo da qualche altra parte ci provo però non so dove perché anche su un altro sito me l'hanno bannato anche lì me lo bannano tutti questo trovo qua del copyright per me è un mistero io faccio pubblicità della musica brutta anche tra l'altro e voi non volete ma che sono suscettibili quelli della musica comunque secondo me vince quella che fa non c'è una canzone così ma se ci sarebbe a sarebbe è meglio giovedì comunque c'è un video nuovo in doppia con un altro mai fatto qua sul canale la piattaforma mi raccomando è una novità non c'è una canzone così non c'è una canzone così